Sì, l'8 dicembre sarò appunto protagonista su questo papposcenico, tra una spiegata e l'altra, vi farò ascoltare qualche mia canzone, vi aspetto in tanti, ed è bellissimo essere qui perché non è vero che sposarsi non va bene, come diciamo tutti, sposarsi è bellissimo. Bisogna affrontare la vita con maturità, in maniera concreta per cui è viva, è viva queste manifestazioni e poi al di là della crisi, io qua vedo tanto fermento per cui insomma è viva mia sposa e veniteci a trovare, soprattutto appunto l'8 dicembre ci sarò io con la mia musica live e niente, vi aspetto cosa volete sapere di più.